eccoci qua a Molveno, il nostro bell'alberghetto, Claudia che si sta già prendendo possesso della stanza, io sto già preparando lo zaino, la Nico ci ha ritirato il pacco gar, qua abbiamo tutto il necessaire per la colazione, il porta banana fondamentale numero uno, manca il frullatore, dove è il frullatore? il frullatore nella valigia, la stanzetta, la faccio la stanzetta, una bella stanza direi, bene, ottimo, ci si vede domani mattina, buonanotte! Buonanotte, buonanotte, buona fortuna, divertitevi, sappiate che state a rendere uno dei posti più belli del mondo, le dolomette di prensa e non saremo ad aspettarvi, ovviamente alla playa ad accogliere tutti con le grandissime prima ora di gara, tutto bene, bastoncini già presi, pronti via, ho perso una delle due borracce, bene, sono due apposta, come gli organi, sono in due, ne basta una, il secondo è un aiuto, tempo meteorologico spettacolare, bello, bello, era previsto tuvolo, invece sembra bello chiaro, siamo avanti così, spettacolo, ma dopo, dimmi se già questo non vale la pena, per me sì, per me sì, io sono già contento così, ma che spettacolo, eccomi qua, ho saltato un rifornimento solido mio, no va bene, no problem, morale c'è ancora, buono, qui dove dobbiamo andare, va bene, ci siamo, stanco sì, però alzo lo sguardo e sono a posto, come ho detto sin dall'inizio, oggi è la montagna che gioca con me, quindi va bene, l'obiettivo di oggi è arrivare a casa, spero meno di otto ore, ma tutto quel che viene va bene, non era una gara in programma, vale solo il panorama, basta, guardate qua, guardate qua, ho detto tutto, ho, 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 ho Sì, sì. potremmo essere intorno alle 3-4 ore di gara tecnico per me molto tecnico troppo tecnico sarebbe già tecnico in condizioni normali quest'anno questo è il più tecnico che ho fatto prendiamo anche il bastoncino siamo a posto e va bene ho già passato un termine inglese un down un momento di minimo mi sono ripreso questo tecnico non aiuta questo non è tecnico però quello che ho appena passato non aiuta certo il morale sistemato le scarpe avevo dentro dei sassi le ho tirato un po adesso qua potrei iniziare a tirare su un attimo il passo il cardio perché adesso sono a 124 tranquillo tranquillo e secondo me ci si può permettere quindi di spingere un attimino senza esagerare la giornata è bella vediamo di goderci il più possibile cercando di rimanere fedeli all'idea di stare sotto le otto ore mantenendo il cardio in z3 vediamo ciao 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 mi piace la tua fascia Quanto l'hai chiusa? Sì, tutti se vuoi. Potremmo essere a... No dai, ve lo dico giusto quanto siamo. Ah, cinque ore. Dai, cinque ore comincia a rannuvolarsi. Mi ripeto, panorami veramente degni, belli. Guardate qua. Qui è dove vorrei essere in questo momento. Stanco, affaticato. Ma con la montagna che sta giocando con me. E non si sta risparmiando. Lei è fatta così. Da sempre al massimo. Ciao. Ciao. Sono io. Ciao. Sono io che a volte non sono all'altezza di giocare con lei. Ma oggi va così. Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo, sì. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. 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 Grazie. Occhio per terra. Buongiorno. C'è... Se si. Una velocità di Remenio. Sani? Abbiamo detto che stai ghiando. se la memoria non mi inganna la la poi inizia il bello via i bastoncini ci si arrampica grande scusate ma non ho parole ma non perché sia stanco ma perché spettacolo ciao ciao inizia il bello andiamo infilarci la dentro allora dopo la caduta tutto a posto vabbè schiacciato il dito questo qui tra il bastoncino e la terra va bene fra un po ciao tra un po ci sarà da mettervi i bastoncini ciao e cominciare e cominciare e fare una bella salita a zizzac là in mezzo finché non si scavalca e poi poi si scende 15 chilometri di discesa andiamo il fiato si fa corto più per la paura che per la fatica è stato un pezzettino chiaro che non al mio ambiente per quei momenti di adrenalina che il peggio sia passato piove dove dobbiamo arrivare sopra da quei signori in giallo un po di neve ma le rocce bagnate sono passate dai 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 adesso andiamo giù fa freddo mi dobbiamo rimettere in movimento poco meno di 10 chilometri purtroppo non credo di riuscire a stare sotto le otto ore pazienza morale è buono sta andando bene fatica c'è ma non è eccessiva non ho cali quindi va bene va bene grazie 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 ha già mangiato vero ottimo anche lui ciao grazie grazie ciao 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 5k credo ciao 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 ciao